Mi chiamo Antonino, per gli amici Tony, vengo dalla Toscana. Nel vostro istituto io ho conosciuto non solo tramite social, ho anche altri amici che l'hanno fatto prima di me, ho ascoltato, ho visto vari video che il dottor Palmas ha messo su YouTube, ho dovuto prendere la grande decisione di fare una riabilitazione totale e sì che di per Dio ho avuto anche un po' paura quando sono venuto il primo giorno che si è cominciato a fare l'intervento chirurgico, ho avuto un po' paura, nel senso che faccio, che faccio, però oggi sono contento, avevo preso un percorso buono, ho masticato esteticamente, contenti tutti a casa, sono stato due giorni e poi mi hanno messo subito provvisori e lì già mi è cambiata la vita, nel senso a livello di masticazione subito ho cominciato piano piano perché magari ci avevo sempre le ferite in bocca, quello è normale, ho detto va bene, vai, abbiamo fatto la scelta giusta. Se si parla di prima prima, poi uno se ha un pochino, se tiene la propria persona poi viene un istinto di mettersi sempre quando fai un sorriso la mano davanti alla bocca perché non ti piace far vedere una bocca martoriata, una bocca non curata, di qua di là e ora non avere questo problema e fare una risata a tavola con le persone, di qua di là è una cosa bellissima e in più anche salutare perché in masticazione ho ripreso a masticare lateralmente perché io masticavo solo davanti, era un po' un macello e sicché ora sono proprio soddisfatto di questo. Ha di sicuro le bistecche che mangerò, le bistecche che mangerò da ora in avanti dato che abito in Toscana e c'è la Fiorentina, faccio un recupero su quello sicuramente. Esteticamente basta, sono a posto, oggi sono a posto, mi guardo allo specchio e dico va bene così, io sto parlando di dove mi sto curando, dal dottor Padmas, va bene? Una volta preso questo percorso di andare tranquillamente fino in fondo, sì, io sto andando via contento. Allora, io parlo di me, i miei tempi sono stati rispettati, tutti.